Conoscere i mercati di Kazakistan e Azerbaijan e allo stesso tempo approfondire quello russo. E' questo l'obiettivo di 23 imprese altoattasine che hanno partecipato oggi alla giornata di consulenza organizzata da Leos presso la Camera di Commercio. I rappresentanti delle aziende hanno potuto informarsi su come e dove operare nei paesi dell'ex Unione Sovietica che, a detta degli esperti, sono molto interessanti nonostante le notte e tensioni che interessano attualmente Russia e Ucraina. Politicamente si sta lavorando intensamente e proprio la provincia autonoma di Bolzano potrebbe essere presa come modello di convivenza. In questo momento l'Ucraina e la Russia stanno facendo delle discussioni politiche, delle soluzioni politiche all'interno del sud-est dell'Ucraina per le regioni conflittuali. La proposta è quella di regioni con uno statuto speciale sul modello Alto Adige che noi abbiamo proposto, che il mio consolato ha proposto al governo russo e credo che già che si discute di modelli di soluzioni politiche si avvicina ovviamente anche l'annullamento delle sanzioni europee nei confronti della Russia e con ciò ovviamente anche l'annullamento delle sanzioni russe nei confronti della comunità europea. Esperti di economia hanno analizzato e illustrato le peculiarità economiche dei tre paesi. È stato sottolineato come in Russia le imprese tecnologiche riscano ad ottenere ottimi risultati nonostante il calo del rublo e la mancanza di crescita e sviluppo. Durante la giornata i ricercatori presenti all'incontro hanno effettuato consulenza ad hoc con gli imprenditori locali evidenziando anche gli eventuali rischi per le aziende. Entrando in un mercato del genere, Kazakistan o Azerbaijan si deve preparare bene il tutto, cioè abbiamo esperti qua che possono dire sì questo lo posso fare, altre cose non posso fare. Però una novità che secondo me è interessante è che in Kazakistan come imprenditore si può entrare per 15 giorni senza visto, cioè una cosa che facilita entrare sul mercato e vedere il tutto, una cosa che in Russia o in altri mercati è molto più difficile ancora.